Mi trovo nella villa Peripato, precisamente nell'area riservata per lo sgambettamento dei cani. Certamente un'iniziativa lodevole perché è una forma di civiltà verso gli animali, verso i cani, ma l'amministrazione Melucci non si smentisce mai per la sua incuria, per il fatto che davvero non ha il minimo rispetto nella fattispecie né dei padroni, dei proprietari dei cani né nei confronti dei quattro zampe stessi. Guardate il porcile che c'è. Vedete, questo è il cestino dei rifiuti che da almeno 20 giorni non viene svuotato. Va sottolineato la civiltà, il senso di civiltà, il senso civico dei proprietari dei cani che ovviamente raccolgono, conferiscono qui i vari sacchetti contenenti gli escrementi dei cani ed altro. Ma se, non so, chi ma Ambiente Amiu o altro soggetto deputato non si degna di svuotare il raccoglitore, beh c'è da dire che l'area si trasforma in un vero e proprio letamaio. Guardate, è una bella area. Guardate, qui c'è uno spazio attrezzato affinché i cani possano sgambettare, possano muoversi. Ci sono anche degli strumenti, no? Delle attrezzature idonee a far sgambettare i cani. Ma non è possibile che un'area del genere poi debba vivere, come dire, nell'assoluta dimenticanza, nella strafottenza dell'amministrazione comunale. Guardate, qui i rifiuti si accumulano, gli escrementi dei cani raccolti nelle buste si accumulano e vedete c'è il walzer delle mosche. Quindi, giustamente, è inevitabile che gli escrementi attirino le mosche. Ma ci possiamo spostare ancora nell'area per lo sgambettamento e vedete ci sono delle buche, anche alcune un po' profonde, che non sono state mai colmate. Non si capisce perché. Guardate, incredibile, sembrano dei fossati. In particolar modo ce n'è una qui vicino a una panchina. E cosa assurda? Vedete, la recinzione è rotta e molti proprietari dei cani alla bella e meglio hanno provveduto loro stessi a rattopparla, onde evitare che dai buchi presenti i cani, appunto, potessero, come dire, scappare. Anche all'entrata la stessa cosa. Dicevo, all'entrata la stessa cosa. Altra problematica. La, vedete, sono le mosche che mi circondano e ci circondano. Anche all'entrata la recinzione si è rotta, la grata della recinzione si è rotta e i proprietari dei cani, alla bella e meglio, alla meno peggio, hanno cercato, come dire, artigianalmente di rattopparla. Eppure per un'amministrazione che escia l'acqua da naro pubblico con il 6GP, 7 milioni e mezzo di euro, quanto costerebbe riparare una rete, un'inezia, no? Una fesseria? Ah, dimenticavo, queste aree di sera sono, almeno una in particolare, completamente buia. E comprendete che molti proprietari dei cani hanno paura a camminare al buio, visti i rischi per la sicurezza che si corrono. Mi sono spostato di qualche metro ed eccomi nell'altra area per lo sgambettamento, quella riservata ai cani, diciamo, di piccola taglia. Anche qui lo stesso quadro penoso, il raccoglitore dei rifiuti non viene svuotato e anche qui una recinzione completamente rotta che, grazie alla buona volontà dei proprietari dei cani, è stata rattoppata. Vedete, è stata messa una rete in ferro con le fascette di plastica per, appunto, bloccarla. Beh, come vedete, noi da un lato notiamo il rispetto verso gli animali, dei proprietari dei cani, il loro senso civico, la loro voglia di rispettare l'ambiente e la città nella stessa misura in cui loro rispettano i loro cani. Ma la realtà è che questa amministrazione, anche in questo caso, è completamente assente. Lo ripeto, un'amministrazione che non ha rispetto, l'amministrazione melucci, né delle persone e né degli animali.